Una delle pornostar più gentili, più dolce, più buone che ho conosciuto è Marina Mantero. Noi abbiamo fatto un film in costume Lili Marlen, tutti conoscono il personaggio della canzone, quindi era un film ambientato durante la guerra, in cui lei finiva in una casa di piacere, però è innamorato di un ragazzo che scriveva canzoni, che poi era Francesco Marco. Insomma, un film molto bello, drammatico, però sempre con l'umore che metto io nei film, e Marina ha interpretato benissimo questa Marlen, perché proprio lei aveva il viso della ragazza di campagna che arriva in città sperduta, però con la furbizia e con quella sua sverbe erotica che contraddistinguera secondo me anche il personaggio della vera Lili Marlen della canzone. E adesso poi questa sua bontà e generosità nei confronti degli uomini, ma anche degli animali, l'ha portata ad avere un negozio che si occupa della cura della toilette e di tutto quanto degli animali. E quando l'ho rincontrato, adesso sei un po' cicciottita, ma ancora sempre bella, 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 anzi a me poi che piacciono un po' le cicciottelle, mi piace ancora di più, e si occupa di questo negozio di animali. Quindi è passato dagli uccelli di un certo tipo ad uccelli e altri animali di un altro tipo. Grazie.